Lavori di restyling in via di definizione Al comunale di Bogliasco Oltre agli spogliatoi che saranno completamente rinnovati Si sta completando anche la stesura del nuovo manto erboso in erba sintetica Che permetterà ai ragazzi dell'Accademy Blucerchiata Di calcare un prato di ultima generazione L'attuale campo può essere utilizzato a livello professionistico Qui siamo a Sampdoria, a livello professionistico il campo di allenamento Sarà il campo di allenamento delle squadre della primavera o altro Ma sarà sicuramente utilizzabile anche della prima squadra Perché questa tipologia di sistema viene comunque montato anche dentro gli stadi È un sottofondo stabilizzato con un sistema chimico MAPEI MAPEISOL 100 Che è proprio un sistema studiato apposta per il consolidamento dei sottofondi esistenti Come era questo Abbiamo garantito il drenaggio dell'acqua utilizzando un tappetino drenante 3D tridimensionale Praticamente lo scorrimento è laterale Va nelle tubazioni di raccolta e canalette Al di sopra viene posto il manto artificiale che vedete Che è di nuovissima generazione perché è fatto e costruito con tutti i sistemi rigenerabili Praticamente al contrario di alcuni tipi di materiali esistenti su commercio E utilizzati negli anni precedenti Questo prodotto a fine vita può essere rirecuperato e riutilizzato In ambito di riciclaggio di plastiche e altri vari Quindi ultimissima generazione perché non ci si pone più problema Cosa farò a fine vita del campo Lavori questi che permetteranno alla primavera di Cicciopedone Di giocare le gare casalinghe nel proprio centro sportivo La primavera che gioca a Bogliasco penso che sia un grande successo Dopo tanti 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 anni che ha dovuto migrare lontano da Bogliasco Il poter rigiocare nel tuo centro dove ti alleni con la possibilità dei tifosi di accedere più facilmente Con la prima squadra vicino È ancora un senso di appartenenza ulteriore a quello che è l'attaccamento al centro sportivo L'attaccamento ai colori e attaccamento alla società I ragazzi cominciano ad avvertire il sapore del giocare anche per obiettivi a livello di risultati Per dei contorni che ci sono durante le partite Quindi avere più pubblico e avere soprattutto pubblico di fede sandoriana Che ti viene a vedere e ti viene ad incitare da vicino Sicuramente è uno stimolo maggiore Che ti viene ad incitare da vicino Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti